Buongiorno a tutti e ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è sabato 15 marzo, vediamo insieme come aprono i giornali locali. Iniziamo proprio dal quotidiano del Molise dove si parla dell'ITR. Rosati dribbla tutti voglio la ITR, il gruppo che fa capo all'ex vicepresidente del Genoa Calcio, fa la migliore offerta. Gli obiettivi, assunzione di 250 dipendenti, primo investimento da 7 milioni e 14 in futuro. Costi della politica, bocciatura pesante, il presidente della Corte dei Conti, Sciascia, striglia e i consiglieri regionali, non è più tempo, disperperi e benefit. Campobasso, né abusi né favoritismi e nessun caso pozzo, chiesta l'archiviazione. Ancora Campobasso al Bar di Gioia, 20-100 mila euro, gratta e vinci portafortuna ad un cliente. Si parla anche di turismo, campitello e capracotta, impianti aperti e neve fantastica. Funivie Molise, la società che gestisce gli impianti, si aspetta il pienone per questo weekend. Isernia, frane sulla Fresiglia, arrivano i fondi, stanziati 80 mila euro. Vediamo lo sport, Serie D, Isernia, Petrarca e Favellato si dissociano da Petrangelo. Lupi Coppa, la semifinale comincia in Sicilia, si gioca a porte chiuse. Eccellenza, Pozzilli arriva il Montenero, Venafro in casa. Promozione, due anticipi, Vinchiaturo e Toro non possono sbagliare. Leggiamo insieme le prime pagine interne del quotidiano del Molise, dove si parla anche di debiti della pubblica amministrazione al Molise, 27 milioni. La prima tranche di 11 milioni è stata già erogata, la regione attende la seconda e incalza il MEF. Frattura, aspettiamo altri 16 milioni, poi provvederemo ad avviare i pagamenti alle aziende. A Campitello e Capracotta, sci, impianti aperti e neve fantastica. Formazione professionale, continuità per i lavoratori, il governatore individuata, la soluzione. Riconoscimento, area di crisi, avviato l'Iter. Bando sull'innovazione tecnologica, Scarabbeo, presto la graduatoria, arrivate 600 domande. Disposto anche lo sblocco delle risorse per Molise dati, via al percorso per la nuova convenzione. Riforma del titolo quinto, presidente in conclave, prima dell'incontro col premier Renzi. La Corte dei Conti striglia la politica a dare il buon esempio con una riduzione dei costi e il taglio dei benefit. Inaugurazione dell'anno giudiziario al Mario Pagano, aumentate le condanne, più di 5 milioni nel 2013. Nessun abuso e neppure favoritismi, la Procura chiede l'archiviazione del caso che vede indagato il questore. Ora la parola passa al giudice per le indagini preliminari. Il Movimento 5 Stelle accusa Consiglio regionale sordo ai nostri appelli. Si parla anche della giunta, la sinistra chiede visibilità e Union Turismo sponsorizza Emilia Vitullo. Dal quotidiano del Molise passiamo adesso al quotidiano online. Informa Molise e leggiamo insieme le prime notizie che riporta proprio il sito. La resa dei conti con la banda degli onesti, la Corte dei Conti boccia il Consiglio regionale. Formazione professionale assicurata alla continuità lavorativa, Frattura, costruiamo il nuovo corso. Chiesta all'archiviazione per il questore Pozzo, individuato l'assessore donna della giunta Frattura. E in ultimo, Teresio Di Pietro, l'Udc, non è allo sbando e non ha padroni. Vediamo adesso la gazzetta del Molise. L'Oscar del giorno viene assegnato a Lucio Di Gaetano, mentre il tapiro del giorno va a Vincenzo Niro. Nuova giunta, tutto fermo da 15 giorni. Pozzo tra un Papa e un Angelo, il miracolo dell'archiviazione. Vediamo nel dettaglio le prime pagine. Tacciono tutti i sindacati, università, consorsi industriali, comitati, ordini professionali, associazioni di categoria, finanche, conf cooperative Molise. Eppure non mancano motivi per chiedere la convocazione di un Consiglio regionale da dedicare al progetto di sviluppo del Molise, dopo averlo opportunamente preparato nei contenuti e nelle modalità di partecipazione. Crisi economica profonda, politica sfittica, istituzioni allo sbando e nessuno parla. Diamo risposte non in certezza. Michele Petraroia pronto a tornare in panchina. Frattura bis, la telenovela di una gravidanza senza fine. Il governatore aveva annunciato il rimpasto di giunta rapido, ma dopo due settimane c'è ancora attesa. Condannati a restituire 5 milioni di euro ai cittadini, la Corte dei Conti festeggia i suoi primi 20 anni in Molise. Dalla Gazzetta passiamo adesso a primo piano Molise, dove si parla anche qui dell'ITR, l'offerta che spiazza tutti arrivata ieri da un imprenditore del Nord, Antonio Rosati, pronto ad acquisire l'azienda e impiegare da subito 250 persone. Sul tavolo anche le proposte di IKF, Colella e compagnia mercantile, ora tocca al Tribunale di Isernia a decidere. Casta e sprechi, il presidente Sciascia bacchetta, la classe politica, la relazione della Corte dei Conti. Boiano, Gamma, Calleo presenta il piano ai lavoratori, la filiera vicola diventa social, l'assemblea mostra un cauto ottimismo. Venafro, dietro fronte del Carsic, mobilità solo per 28 dipendenti. Dieci giorni fa la misura interessava 48 unità. Campobasso al voto, Coralbo-Izzi in corsa per il municipio, la coppia piace all'ex governatore Iorio. Palazzo Vitale, frattura, proroga i contratti a 95 operatori della formazione, sblocca i fondi per Molise-Dati. Campobasso, sospetti sul questore Pozzo, si va verso l'archiviazione, nessun abuso, favoritismo, la parola passa al GIP. Anche qui si parla del giocatore, baciato dalla fortuna, gratta e vinci da 100 mila euro, la dea bendata si è fermata in via Garibaldi. Viabilità, frana sulla Fresilia, Nanni annuncia un intervento tampone da 80 mila euro, le risorse assegnate alla provincia di Isernia. Vediamo lo sport, serie D. Isernia, Petrarca e Favellato scaricano l'ex DS Petrangelo. Coppa Italia, Lupi l'urna regala il ritorno della semifinale al Romagnoli. Eccellenza, il torneo riparte dopo la sosta, tre anticipi nel Venafrano. Vediamo anche qui nel dettaglio le prime due pagine, come ti aggiro il DL 74, tutte le tappe del modello Molise. Prima la casta ha nicchiato sull'articolo 7, poi l'ha trovata per aumentare le risorse dei gruppi. La magistratura contabile ha dichiarato illegittime le misure di Palazzo Moffa. Movimento 5 Stelle, Lapidario, ancora una bocciatura per la banda degli onesti. Martedì si discuterà l'ordine del giorno dei grillini sulla restituzione del bonus per i portaborse. E dal PD, Maio, incalza i suoi, vicenda pessima da chiudere in fretta. Rimpasto, sinistra in pressing, visibilità per evitare soluzioni da gatto pardo. Politica, sotto accusa, basta sperperi, relazione senza sconti del presidente della Corte dei Conti, Sciascia. Formazione professionale, prorogati i contratti ai 95 operatori in bilico, frattura spiega, percorso temporaneo. Insieme a loro cambieremo il settore. Avviato il confronto col Mise sull'area di crisi. A Palazzo Vitale resta il presidio di esattorie. Debiti della pubblica amministrazione, sottoscritto l'accordo per i 16 milioni. Il governatore, siamo in attesa del trasferimento dal MEF, sbloccati anche i fondi per Molise dati. Innovazione, 600 domande per il bando, aiuto concreto alle piccole e medie imprese. L'assessore Scarabeo fa il punto sull'iniziativa delle attività produttive. E in ultimo vediamo le notizie riportate sulla pagina molisana del Tempo. Eccola qui, Campobasso, costi troppo alti, la Corte dei Conti richiama frattura. Passiamo adesso alla stampa nazionale. Leggiamo insieme la prima pagina del Corriere della Sera. ai nuovi contratti più flessibili, protesta della Camusso, così aumenta la precarietà. Possibili otto rinnovi in tre anni, Merkel su Renzi, il suo piano di riforme è ambizioso. Come non dimenticare tre anni di guerra civile in Siria, i morti che nessuno conta più. La sfida di Berlusconi corro alle europee in tutte le circoscrizioni. Il PD condannato non può. Leggiamo adesso La Repubblica. Anche qui la sfida di Berlusconi. Mi candido. Merkel promuove Renzi. Lavoro. Scontro con la CGL. Spending Review pronta. Capolista all'Europea. Aspetto il sì dei giudici. Il sindaco boccia i tre anni di contratti. Il sindacato, scusate, boccia i tre anni di contratti a termini. Spesa stretta su difesa e polizia. Il re del Bayern sceglie il carcere. Ho sbagliato. Devo pagare. Ucraina. Gelo. Usa Russia. Più vicine le sanzioni. Vertice fallito. Carry illegittimo. Il voto in Crimea. Oggi decide l'ONU. Leggiamo adesso la pagina nazionale del tempo. Licenze e mazzette. Che pizzardoni. Romanzo municipale. Raffica di nuovi indagati dopo le inchieste del tempo. I carabinieri, così la cricca dei vigili urbani, taglieggiava ristoranti e negozi. Tra i clienti VIP, l'avvocato delle minorenni. L'indagine sulle baby squillo, le ragazzine, Ieni ci usava come macchine da soldi. Rolling Stones rotolano a Roma, tra dubbi e misteri, in concerto al Circo Massimo, il 22 giugno. Chi li paga? Il tour europeo di Renzi. Matteo seduce la Merker. Riforme ambiziose. Il commento del prof. Emanuele. Più taglia la spesa e fisco. Meno pesante. Fini. Sono pronto a rifare la destra. A volte ritornano. Leggiamo adesso il messaggero. Svolta sui contratti. A termine, intervista al ministro Poletti, prorogabili otto volte in tre anni. Camusso sbaglia sui precari. Merkel attende Renzi. Riforme ambiziose. Napolitano lo incoraggia. Vai avanti. Prudente. Farmaci. Stoppa ai superprezzi. Tagliola sugli accordi. Tra i big arriva il decreto. Droghe. Torna la distinzione tra leggere e pesanti. Referendum Crimea al voto. Fallisce l'ultima mediazione. Scontro tra Stati Uniti e Russia. Leggiamo adesso la stampa. Tagli. Renzi chiede di più. Merkel. Piano ambizioso sulle riforme. Camusso. Più precarico. Il job act. Incontro con Napolitano. La vigilia del tour europeo. Il premier. Almeno 5 miliardi per coprire le esigenze. Tre anni di guerra. Assad ancora più forte. Anniversario di sangue in Siria. Offensiva finale del Raiz. Che ora punta a farsi rieleggere. Crimea. Fallisce anche l'ultima mediazione tra USA e Russia. Domani il referendum. Passiamo adesso all'informazione economica del sole 24 ore per i contratti a termine. 8 proroghe senza causale. Rinnovi fino a 36 mesi e tetto del 20% dell'organico. Il lavoro chiarisce i dubbi sul tempo determinato. Deve rimanere invariata l'attività. Anche qui si parla della Merkel che promuove Renzi. Un piano che definisce ambizioso. Il premier svolta dell'Unione Europea. Il capo di governo napolitano. Ora lo sviluppo. Ma rispetto il 3%. Parte il tour europeo. Oggi Hollande. L'Ucraina spaventa le borse. Timori anche per il PIL cinese. Moody's migliora l'outlook dell'Unione Europea. La tensione in Crimea pesa sui listini europei. Piazza Affari cede l'1,19%. Positiva Wall Street. Passiamo adesso all'informazione sportiva. Vediamo insieme la Gazzetta. Alba Rossa prove a Melbourne. Mercedes Avanti. Ma la Ferrari di Alonso è lì. Donadoni. Caro Milan. Ti ricordi? Sono un osso duro. L'uomo del miracolo Parma. Affronta domani la squadra dei suoi trionfi. Una vigilia speciale raccontata a cuore aperto. Rimpianti rossoneri? Nessuno. Seedorf. Lasciatelo tranquillo. Cassano come Pirlo e Totti. La contestazione. Guerra della Sud. Gagliani e Balo. Ecco cosa c'è dietro. Intanto Barbara lancia l'operazione Stadio Expo. Inter. Futuro Mazzari a giugno saprete. Palazzo rinnova. Juve premio per 100 punti ma non per la Coppa. Roma sorridi. Riecco Totti il capitano per la Champions. Kaiser Gomez è tornato. Rossi recupero più veloce. Anche qui si parla del caso dell'allenatore del Bayern. Vado in carcere. Dopo la condanna per frode fiscale lascerà la carica nel club. Passiamo adesso al Corriere dello Sport. I tifosi del Milan all'attacco via Gagliani. Diffuso un comunicato duro. Alcuni giocatori nel mirino. Chiari riferimenti a Balotelli. Domani la protesta della curva. Prima della sfida con il Parma. Corriamo di meno. E allarme mondiali. Le partite nelle Coppe confermano i timori. Pincolini poco intensi. La Nazionale e i club. La Juve scopre l'allergia a Europa. Ansia Marchisio rischia un lungo stop. Mazzarri Inter c'è la prima crisi. Stasera all'anticipo a Verona. Moviola in campo. Federcalcio divisa. Riecco la Formula 1. Domattina alle 7. Il Via. Cosmiche colpo. Palermo all'assalto. Serie B. Il Pescara vince 1-0 alla Spezia. Oggi esame Brescia per Giacchini. Bene, questa era la nostra ultima notizia sportiva. Grazie per aver seguito la rassegna stampa di Molise TV. Vediamo adesso insieme le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Arrivederci. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House su nel riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per sabato 15 marzo. Una circolazione depressionaria centrata sul Nord Africa risale verso nord, favorendo un aumento della nuvolosità anche nel sud d'Italia. Si tratterà tuttavia di addensamenti a prevalente carattere stratiforme con bassa probabilità di precipitazioni. Ventilazione debole di direzione variabile a prevalente regime di brezza con mari quasi calmi o al più poco mossi. Temperature in lieve rialzano i valori minimi senza particolari variazioni nei massimi. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 7, massima 15 gradi. Isernia minima 3, massima 16 gradi. Termoli minima 8, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.